Ti iscriviamo a un sito per appuntamenti? A quale personaggio somigli? Bruce Willis? Amity Danti? Gollum! Pronto, Lucy! E sono Gru! Accetteresti? Una cenetta romantica con me? Grazie, ma non mi aiuti per niente. Farò così nervosa per stasera. Ci sono troppe persone fente, ngera. Sì, ti capisco. Cattivissimo Me 2! Patricio, San Diego, Quattro! Modiglio, San Diego, Cattivo, Jaak! No c'è garante! Si, veri,